Come forse avrete sentito, domenica scorsa 5 febbraio c'è stato un bel po' di trambusto, vero? Da un lato abbiamo avuto il disservizio della rete team durato diverse ore, ma del quale non parleremo quest'oggi, mentre invece dall'altro la notizia di un attacco hacker di portata internazionale che ha interessato Italia, Francia, Canada, Stati Uniti, Finlandia e non solo. Ma grazie al fondamentale e come sempre paccatissimo intervento delle nostre testate giornalistiche nazionali ne è conseguito un putiferio tale che la metà bastava. Amici, parenti, colleghi, mancava solo il papa e ne avevano chiamato tutti, ovviamente più allarmati che una gioielleria in Monte Napoleone e come dargli torto, dico io. Cioè sentire come l'hanno messa giù pareva una sorta di nuovo millennium bug in stile terza guerra mondiale, cacchio. Attacco hacker nella mattina di domenica 5 febbraio. L'Europa è sotto scacco, l'Italia sta per cadere, i russi ti attaccano, che pensa i bambini? Strano ma vero, non è successo niente di tutto ciò. Questo è l'ennesimo esempio di una notizia che è stata gonfiata oltremisura e storpiata nella realtà quel ciccinino che basta per fare odies. C'è una cosa che io personalmente detesto con ogni fibra del mio corpo. E sebbene siano passati già fondamentalmente un paio di giorni, da allora il sottobosco di internet permane torbido. Pertanto mi sono permesso di registrare questo video per vedervi fare un po' di chiarezza sull'argomento e spiegare come sono e come stanno andando effettivamente le cose. Il tutto, spero, in pochi minuti. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. E non meno di ricordatevi anche di attivare quella stramaglietta campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì, ore 12.30. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con i suoi T-Support. Io sono Doc e una manipolazione del genere non si vedeva dai tempi di Raul Cremona e la sua mitica prestigiri biridirigerizione. Ma di cosa stiamo parlando nel concreto? Per dirlo in breve e tranquilli, ve lo spiegherò meglio nei prossimi minuti, Si tratta di un attacco informatico di tipo ransomware ai danni di alcuni server basati su vecchie versioni della suite di virtualizzazione di VMware, in particolare il servizio barra componente ESXi. Tradotto, la cosa interessa pressoché soltanto le aziende. Ma attenzione, sia chiaro, non è qualcosa di poco conto. Si tratta comunque di un attacco piuttosto diffuso e degno di nota, ma al contempo non così drammatico e certamente meno esagerato di altri che abbiamo vissuto in passato. Eppure, per qualche ragione a me fondamentalmente ignota, questa notizia ha canturato l'interesse della stampa generalista, in particolare quella italiana, la quale l'ha riportata con toni decisamente impegnativi, fervorosi direi quasi. Pertanto vediamo ora di andare a guardare quelle che sono le cause, la diffusione e le conseguenze di questo attacco informatico, ponendo però un doveroso monito di base. Ad oggi, 8 febbraio, data in cui sto registrando questo video, la situazione si sta ancora evolvendo, sì che alcuni dettagli potrebbero variare nell'arco di pochissimo tempo. E prima di cominciare, permettetemi di spendere due parole su alcuni termini che mi sentirete utilizzare sovente nei prossimi minuti, e che vi saranno però fondamentali per capire di che cosa andremo a parlare. Il primo è ransomware, un particolare tipo di attacco informatico diffusosi negli ultimi anni. In buona sostanza, in questi casi, il malintenzionato cerca di caricare ed eseguire un software malevolo all'interno di un sistema operativo, per esempio inviandolo via mail. Vi suona questa cosa, vero? Il quale, se va a buon fine, cripta tutti i file che riesci a trovare organizzandoli in archivi protetti da password, per poi andare a richiedere un riscatto al proprietario degli stessi, solitamente che strano, in criptovalute, per poter ottenere la password e rientrare fondamentalmente in possesso dei propri dati. VM Virtual Machine o Macchina Virtuale. Sostanzialmente è l'idea di avere e di utilizzare un sistema operativo all'interno di un altro sistema operativo, quasi come se fosse un programma. Per esempio, qualora io abbia necessità di utilizzare un sistema operativo Windows all'interno di Mac OS, potrei farlo, appunto, creando una cosiddetta macchina virtuale. Infine, Hypervisor. In buona sostanza si tratta di un'applicazione studiata appositamente per controllare, monitorare e gestire più macchine virtuali contemporaneamente. Praticamente, quindi, non so, una specie di maestra con i suoi alunni. Come accennato di poc'anzi, la vulnerabilità in questione scoperta nel 2021 è contraddistinta da questa sigla che vedete in sovraimpressione e riguarda il software VMware ESX-E, ovvero l'hypervisor più diffuso al mondo largamente utilizzato da tutte le aziende per, appunto, come abbiamo detto poc'anzi, riuscire a gestire contemporaneamente più macchine virtuali. E questo, in realtà, è anche più di quanto vi interessa sapere se non siete operatori del settore, anche perché se ve lo andassi a spiegare nel dettaglio vi farei soltanto un gran casino in testa che non serve assolutamente a nulla. Mentre invece, se volete approfondire, vi rimando all'articolo di Bleeping Computer, il quale, francamente, è praticamente perfetto. Analizzano l'attacco davvero riga per riga. Per quanto riguarda invece il danno, come dicevamo in realtà, veramente, semplificando all'estremo, una macchina virtuale è di fatto un sistema operativo mascherato da applicazione. Ma per rendervi l'idea davvero in maniera terra-terra, sarebbe come se voi strappaste via dal computer che avete davanti il sistema operativo, lo ficcaste in una scatola e poi metteste quest'ultima all'interno di un altro computer. Chiaro? Bene, allora, quando un ransomware vi attacca, prende questa scatola e ci piazza un lucchetto grande così del quale voi non avete la chiave, ovvero la password, e se la volete dovete banalmente sganciare. Ci tengo nuovamente a specificare a scanso di equivoci che l'obiettivo di questo video non è affatto quello di sminuire l'attacco in atto perché appunto è in essere, è pericoloso, è degno di nota, ma bisogna quanto più ridimensionare quei numeri iperbolici che sono stati riportati in maggior parte dalla stampa italiana. Stando ai dati aggiornati in tempo quasi reale da Censys, la piattaforma più eminente in ambito di Internet Intelligence, mentre sto registrando questo video si parla di poco più di 2000 server infettati, maggior parte dei quali in Francia, per cui davvero una goccia nel mare, perché sebbene ad oggi non esistano censimenti che numerano la quantità di server, resistenza al mondo, server e attenzione non datacenter, vi assicuro che è un numero veramente da capogiro, letteralmente. Come dettovi pochi minuti fa, la vulnerabilità in questione è stata scoperta nel 2021 e una patch, quindi diciamo un aggiornamento correttivo, è stato di fatto rilasciato praticamente subito, per cui in concreto, esattamente come si è sentito urlare in giro da a parer mio, troppa gente, scatenando la consueta polemica sterile all'italiana, fatta soltanto di gente che sbraita e si incazza, sarebbe stato sufficiente aggiornare i propri server, i propri sistemi, per evitare questa ondata di attacchi. Vero, ma in parte, il fatto è che dietro a quel sarebbe bastato aggiornare si nasconde una delle matasse più difficili da sbrogliare dell'intero mondo dell'informatica, gli aggiornamenti. Detto anche qui in parole veramente molto povere, applicare un aggiornamento a un server, a un insieme di server, a una macchina virtuale, a un insieme di macchine virtuali, è un ciccinino molto più complesso che fare lo stesso ad uno smartphone o a un computer, soprattutto per via delle implicazioni seguenti, che sono veramente la cosa più fastidiosa in assoluto. Perché, parafrasando un celeberrimo detto, non tutti gli aggiornamenti riescono col buco. Vi stuperebbe davvero sapere quanti di questi aggiornamenti, teoricamente migliorativi, vadano invece a creare gravissimi danni, rendendo parzialmente o totalmente inutilizzabile un sistema, al punto che, bene che vada, si ferma l'intera azienda. Ovviamente esistono anche sistemi, controlli e procedure per evitare, o anzi, sarebbe in realtà molto meglio dire ridurre al minimo l'insorgenza di queste problematiche, ma sono tutti costosissimi in termini di tempo, risorse e denaro. Si tratta in larga parte di un lavoro di analisi, per cui niente affatto una scienza esatta estremamente complesso e zeppo di fattori e variabili in gioco. E ve lo dice uno che in quest'ambito ci lavora. Ho visto cose che, davvero, voi umani non potreste neanche immaginare. Pertanto, prima di sparare a zero con frasi del tipo bastava aggiornare, magari pensateci due volte, va là. Ecco, qui viene la parte che personalmente mi lascia più basito e altrettanto lo ammetto divertito, perché infatti pare che la faccenda non sia solamente una questione di falle o aggiornamenti mancati, bensì pare ci sia anche lo zampino di qualche genio del male che non saprei francamente come definire in maniera più educata. Ma adesso vi spiego. Da quando il fattaccio è avvenuto, me compreso, sono diversi i professionisti e le grandi eminenze del settore che si stanno domandando come abbiano fatto gli hacker in questione a trovare in così poco tempo una simile quantità di server vulnerabili. Perché sì, verissimo, dati alla mano, statistiche alla mano, stiamo parlando di circa 70.000 apparati a rischio, ma questo vuol dire tutto e niente. Quando si parla di realtà aziendali, piccole o grandi che siano, si parla, o meglio anche qui si dovrebbe parlare, di reti informatiche segmentate, compartimentate e soprattutto monitorate. Perché anche qui, senza perdermi in futili tecnicismi, è dato per scontato che sappiate che cos'è un indirizzo IP, oppure, se no, che abbiate dato un'occhiata al video inerente all'argomento che abbiamo pubblicato diverso tempo addietro sul canale e che se vi siete persi vi lascio linkato qui on screen e in descrizione. Diversamente dall'abitazione di un privato cittadino dotato di linea fissa e quindi avente, quantomeno nella normalità, una sola rete alla quale poter collegare tutti i suoi dispositivi, via cavo o Wi-Fi che sia, all'interno di una realtà aziendale accade sovente che siano presenti N sottoreti, aventi ciascuna differenti indirizzi IP, differenti regole e differenti meccanismi di sicurezza. E altrettanto buona norma, ma dipende dalle possibilità, sarebbe anche cosa buona fare in modo che i vari dispositivi assegnati a reti diverse non siano in grado di comunicare e contattarsi vicendevolmente e che, quantomeno l'hypervisor e i dispositivi, diciamo, più sensibili della rete potessero essere contattati solo e soltanto attraverso specifici e determinati computer, ovvero quelli degli amministratori di sistema. Questo perché non è affatto raro che, per esempio, un utente inconsapevole e poco attento vada ad aprire una mail contenente un malware o comunque un software malevolo in genere il quale vada ad insinuarsi all'interno della rete con tutto ciò che ne consegue e quei brutali problemi di cui puntualmente si legge anche sui giornali. Queste procedure, infatti, unitamente alla dotazione di specifici software e apparati come, per esempio, un esempio classicissimo, un firewall, permettono di massimizzare la sicurezza del sistema informatico e ridurre al minimo l'insorgenza di simili problematiche, anche se uno dei server presenta la falla di qui sopra. Sebbene, e siamo tutti d'accordo, in tal caso sarebbe cosa molto buona metterci mano al più presto. Per questa ragione si sta diffondendo la teoria con la quale io personalmente mi trovo molto in accordo che gli indirizzi IP degli hypervisor delle aziende colpite fossero pubblici, ovvero raggiungibili liberamente da chiunque anche dall'esterno dell'azienda e senza particolari sistemi di autenticazione e sicurezza ed altrettanto che non ve ne fossero nemmeno a tutela della porta numero 427, ovvero proprio quella che è stata presa di mira dal malware in questione. Insomma, capite anche voi che viene facile immaginare che la configurazione firewall e di rete di queste aziende fosse grossolana e approssimativa o comunque non adeguata, ma nel caso ci mancherebbe smentitemi, e altrettanto ha ammesso e non concesso che ce l'avessero un firewall. E scherzi a parte, prima di concludere il video di oggi avrei piacere di condividere con voi un pensiero forse demagogico, ma quanto mai onesto, ovvero che razza di mondo viviamo, gente? A quale livello siamo arrivati come società per vederci costretti, content creator e divulgatori, a dover intervenire in prima persona in situazioni come questa per spiegare alla gente comune come stanno effettivamente le cose ed opponendoci, a mio parere, decisamente troppo spesso alla voce di mass media e classi dirigenti? Cioè nel senso vi rendete conto, già a partire da questo lunedì 6 febbraio, diversi volti del settore informatico italiano, e attenzione, non sto ovviamente parlando del sottoscritto, ma di nomi decisamente più conosciuti come ad esempio Matteo Flora di Ciao Internet, il quale seguo oramai da tempo veramente in memore, oppure anche Andrea Chittaro, Senior Vice President Global Security in Cyber Defense di SNAM, quindi non proprio l'ultimo degli arrivati, si sono fatti avanti per dire la loro sull'argomento anche se, indovinate un po', sono rimasti pressoché inascoltati dalla gran parte della popolazione, ovviamente io sto parlando di una comunicazione di massa, e ancora oggi si sente urlare al disastro e all'approssimarsi di Skynet all'inizio della terza guerra mondiale. E con il morale a terra e nello sconforto più totale, io come sempre vi ringrazio per avermi seguiti fino a questo punto, ascoltandomi, spero, vivamente, con interesse, ditemi la vostra opinione qui sotto nei commenti, e diamo inizio ad una sana discussione, mi raccomando, sana, non voglio più vedere, non vorrei più vedere, gente che si accapiglia come già accaduto sotto altri video. Siamo qui per condividere qualche minuto in amicizia e in buona compagnia, per cui cerchiamo di mantenerla tale. E come sempre, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spollicearlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è T-Support, e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale. Grazie a tutti.